Musica 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 Mancano 30 secondi Minchia l'ella no Bravo E dai la battuta C'è tutta la partita Questo è il punto in mezzo Guarda Il cinquantesimo Oh Chiuda 30 secondi 30 secondi Quello che è rimasto a terra prima Quello che è rimasto a terra prima Solo questa vittoria che rimanda E tu sapete al momento Si Sottamentale Per la confezione Cristian Tugarelli che adesso Lascia l'attrezzo da Pino Si porta in campo Perché ci sarà il confezione Consigliamolo Al frattempo I giocatori della Due Stabia Vanno Scusa un attimo Guarda cosa stanno facendo Scusami 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 Scusami